Quanto è meraviglioso quando abbiamo vera e profonda gioia. Dio ci ha creati per la gioia. La gioia è quello che soddisfa veramente il nostro cuore. E nella Bibbia leggiamo spesso della gioia. La gioia è una parte centrale della vita, della salvezza. Quando la salvezza non è macchiata dal peccato, ci sarà gioia. In Salmo 51 il re Davide aveva peccato gravamente e per un po' non aveva confessato e poi Dio lo ha scosso e lui ha visto, ha riconosciuto, si è umiliato, confessato il suo peccato. E confessando il suo peccato, lui prega quello che troviamo, leggo due versetti, Io, Salmo 51, 8 e 12. Fammi sentire gioia e allegrezza, fa che le ossa che hai spezzato festeggino. E 12. Rendimi la gioia della tua salvezza e sostienimi con uno spirito volontaroso. Gioia, fa parte della salvezza. Da un anno stiamo studiando l'epistola ai filippesi. E ripetutamente stiamo parlando, trovando la parola gioiere. Spesso viene tradotto rallegratevi, rallegrari, ma in greco è sempre la stessa parola. Infatti, troviamo questo verbo nove volte, in questo breve libro, nove volte, il verbo gioiere. Paolo parla spesso della sua gioia e ci comanda a gioiere del continuo, ricordate il resto del versetto, rallegratevi, gioite, del continuo nel Signore. E' importantissimo ricordare che la gioia troviamo nel Signore. Non c'è gioia, spesso, nelle circostanze. Spesso le circostanze sono tutt'altro che belle, sono pesantissime, sono dolorose. Non c'è da cercare la gioia nelle circostanze, ma piuttosto cerchiamo la gioia nel Signore. Siamo arrivati alla fine di questa pistola e Paolo, avendo comandato a noi, nella pistola, rallegratevi, gioite, del continuo nel Signore, lo ripeto, rallegratevi. Adesso Paolo parla della sua gioia. La sua gioia che ha, una grande gioia, perché vede frutto in loro. Lui dice che è gioia nel Signore vedendo frutto in loro. Questo brano è molto importante perché ci aiuta a capire come possiamo avere gioia nel Signore. Cioè, l'aiuto, quindi con l'aiuto di Dio, consideriamo il motivo per cui Paolo, in carcere, aveva grande gioia in questi credenti, che è un senso importante di gioia nel Signore. Trovate allora Filippesi 4, vogliamo iniziare con il versetto 10, che è un discorso in cui vediamo il motivo per cui Paolo poteva gioiare nel Signore a causa dell'opera del Signore in questi credenti. Seguitemi mentre leggo da 10 a 18. Allora, in questi versetti da 10 a 18 ci sono due discorsi. Il discorso principale è che Paolo trovava gioia vedendo frutto spirituale in questi credenti. E lui spiega che il loro sacrificio che avevano compiuto era un'offerta a Dio. Quindi c'è quel discorso. In mezzo a quel discorso c'è un altro discorso in cui Paolo spiega che lui aveva imparato ad essere contento in qualunque circostanza in cui si trovava. E questo perché si era fortificato in Cristo. Entrambi di questi discorsi sono importantissimi per noi perché riguardano come viviamo la vita qui su questa terra in attesa di vedere Gesù Cristo. Quindi seguite mentre leggo Filippesi 4 da 10 a 18. Ora mi sono grandamente rallegrato nel Signore perché finalmente le vostre cure per me si sono ravvivate. In realtà già ci pensavate ma vi mancava l'opportunità. Non lo dico perché sia nel bisogno. Perché ho imparato ad essere contento nello stato in cui mi trovo. So essere abbassato e so vivere nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato ad essere sazio e ad avere fame, ad abbondare e a soffrire penuria. Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Tuttavia avete fatto bene a prendere parte alla mia afflizione. Ora sapete anche voi, Filippesi, che all'inizio della predicazione dell'Evangelo, quando a partire dalla Macedonia, nessuna chiesa mi fece partire alcuna cosa per quanto al dare e al ricevere, se non voi soli. Poiché anche a Tessalonica mi avete mandato, non solo una volta ma due, di che provvedere al mio bisogno. Non già che io ricerchi il dono, ricerco invece il frutto che abbondi a vostro favore. Ora ho ricevuto tutto e abbondo. Sono di colmo, avendo ricevuto da Epafrodito ciò che mi è stato mandato da voi, che è un profumo di odore suave, un sacrificio accettevole, piacevole a Dio. In questo brano vediamo che Paolo, nonostante che si trovava in carcere, aveva grande e profonda gioia. La sua gioia era nel Signore. Rallegratevi gioia, è nel Signore. Ma notate che in questo caso era nel Signore perché vedeva frutto spirituale in loro. Cioè era il fatto di vedere l'opera di Cristo, il Signore, in loro che dava grande gioia a Dio, a Paolo. Voglio rileggere il versetto 10, che ci aiuta a capire come anche noi possiamo avere grande gioia qualsiasi siano le nostre circostanze. Seguitamente leggo il 10. Ora mi sono grandemente rallegrato nel Signore, perché finalmente le vostre cure per me si sono ravvivate. In realtà già ci pensavate, ma vi mancava l'opportunità. Prima di tutto ricordate che la parola rallegrate, in greco, è la parola che si potrebbe tradurre anche, forse meglio, gioire. Quindi, come abbiamo letto in capitolo 3 e all'inizio del capitolo 4, Dio ci comanda a gioire, rallegratevi, gioire del continuo nel Signore. E mettetevi in testa che questo vuol dire che la gioia non sta nelle nostre circostanze. Perché le circostanze spesso sono pesantissime, anche per anni. Ma c'è gioia se sai cercare la gioia nel Signore, anziché nelle circostanze. Possiamo gioire nel Signore. Se tu non hai gioia, la stai cercando nel posto sbagliato. Qua in questo versetto Paolo ci mostra un motivo grande per cui possiamo gioire nel Signore. Paolo gioisce e possiamo noi gioire vedendo frutto spirituale negli altri. Notate che Paolo dichiara di rallegrare o gioire grandamente. E' proprio quella che è la parola giusta. Lui trovava grande gioia. Gioiva grandamente. Lui era in carcere. Lui aveva tantissimi pesi sul cuore. Per le varie chiese sentiva di questi problemi e quei problemi. Quindi aveva tanto per essere afflitto. Ma piuttosto aveva una gioia profonda nel Signore. Perché vedeva che il Signore stava promuovendo il suo regno. Portando frutto in questi credenti. Questo brano ci aiuta a capire cosa vuol dire gioire nel Signore. Gioire nel Signore non è che mi chiudo in casa, mi isolo dagli altri, leggo e merito tutto il giorno e non faccio altro. No, gioire nel Signore voglio leggere, voglio meditare, ma poi voglio andare e trovarmi con altri. Voglio trovarmi con altri credenti, parlare con loro, incoraggiare loro, stimolare loro, spronare loro. Voglio parlare con chi non ha Cristo. E voglio osservare quello che Dio sta facendo. Perché il modo di avere gioia e di avere come desiderio, come passione, sia fatta la Tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, santificato sia il Tuo nome. Venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà. Quando questo è la Tua passione, la Tua preghiera e tu vedi che Dio sta portando il Suo regno. La Sua volontà viene fatta perché questi credenti e quei credenti e quei credenti stanno camminando in ubbidienza per fede e Dio produce frutto in loro. Avrai gioia. Perché quello che tu desideri vedrai addempiersi. E quello che mi sollieva molto è che questa gioia non dipende dalle mie circostanze, né dalle tue. Paolo comandava loro a gioire nel Signore prima. E qui Paolo parla che lui trovava grande gioia nel Signore a causa del frutto in loro. Una cosa interessante. Paolo dichiara che ha gioia perché finalmente le loro cure per lui si sono ravvivate. Prima mancavate l'opportunità. Allora, si tratta di un dono economico. E si può presumere che Paolo era a Roma. Quindi non c'era il sistema bancario dove tu vai in internet sulla tua banca e mandi un bonifico a qualcun altro. No, se volevano mandare un dono economico a Paolo, dovevano letteralmente chiedere a uno di loro di andare a Roma portando questi soldi. E forse erano migliaia e migliaia e migliaia di euro nostri, almeno se non decine di migliaia. Se serviva una persona che lascia famiglia, lascia casa, va fino a Roma. E non era possibile in ogni istante. Quindi prima mancava l'opportunità. Sapevano della condizione di Paolo e avevano cuore di, ah, dovremmo aiutarlo, dovremmo aiutarlo. Ma mancava l'opportunità. Paolo aveva gioia quando non era solo un desiderio, ma quando è diventato un vero impegno. Quando non era più solo un bel pensiero, ma era una realtà. Questo dava gioia a lui, perché non c'era frutto con il desiderio. Sai, dovrei chiamare quel fratello che è scoraggiato. Sai, potrei incoraggiarlo, potrei aiutarlo. Sì, dovrei farlo, dovrei farlo, dovrei farlo. Non porta frutto. E quando lo chiamo, che porta frutto. Non il desiderio, ma il fare. Allora, qui c'è una cosa importante. Ci sono momenti che io e che tu, che non possiamo portare il frutto in certi modi. Che vuol dire che quando possiamo, dobbiamo. Perché tu non puoi mai ricuperare opportunità per sé. Eh, ma Dio può aprire un'altra porta. No, non hai capito. Se hai usato male, non hai usato questa opportunità che avevi. Se Dio apri un'altra porta qui, avresti potuto già fare qualcosa altro. Che se tu stai facendo ancora questo, non puoi fare quell'altro. Non possiamo ricuperare quello che sprechiamo. Se Dio ti dà la possibilità di compiere una buon'opera di mille tipi. Ma tu, per pigrizia, per sei troppo preso con altri impegni, per non gestire bene il tuo tempo, manca anzi di cuore. Non lo fai. Non puoi ricuperare quell'opportunità che hai perso. Non puoi mai ricuperare quello che non hai investito per Dio. Tu puoi investire le cose nel futuro. Ma avresti potuto investire sia questo che quello. Quindi, se Dio ti dà cento opportunità e tu trascuri i primi venti, tu non puoi mai arrivare a cento. Puoi arrivare a ottanta. Perché hai sprecato venti. E questo è importante capire. Signore, io, se spreco, non posso ricuperare. Ma ci sarà domani? No, domani avrai porte con impegni per domani. Ma quello che avresti potuto fare oggi, se lo fai domani, non puoi fare quello che avresti potuto fare domani. O salti uno o salti l'altro. O che possiamo capire questo. Noi ci troveremo davanti a Gesù Cristo per presentare a Lui quello che abbiamo compiuto per la Sua gloria. Primo Corinthians 3, cosa abbiamo edificato sopra. L'unico fondamento che c'è, che serve Gesù Cristo. Abbiamo costruito con oro e pietre preziose o con legno o perfino con fieno. Perché sarà provato col fuoco. Tornando al nostro brano, nei versetti 11 a 13, troviamo il discorso in cui Paolo spiega che aveva imparato ad essere contento in qualunque circostanza in cui si trovava. E questo perché si fortificava in Cristo. Paolo aveva grande gioia a causa del loro dono economico non perché lo rendeva, perché rendeva la sua vita più facile, ma perché vedeva in quello frutto spirituale in loro. Lui era contento con un senso del loro dono. Non era, ah, meno male che mi hanno dato soldi. No, grazie a Dio c'è frutto in loro. Lui stava già bene. Lui stava bene nel bisogno. Voglio leggere quei versetti 11 a 13. Non lo dico perché sia nel bisogno, poiché ho imparato ad essere contento nello stato in cui mi trovo. So essere abbassato e so vivere nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato ad essere sacio e ad avere fame, ad abbondare e a soffrire penuria. Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Paolo era contento in Cristo con o senza il loro dono. Perché Paolo aveva, parola importante, imparato ad essere contento in qualunque stato in cui si trova. Lui, per farci capire, nel versetto 12 menziona esempi di situazioni difficili e di situazioni facili. Essere abbassato, avere fame e soffrire penuria. Questi rappresentano problemi gravissimi che Paolo aveva veramente vissuto. Cioè Paolo aveva conosciuto la fame, la nudità, il freddo, essere in alto mare. Paolo, parliamo della vita piena di problemi terribili che noi non abbiamo... Io non ho mai avuto fame. Non ho mai avuto fame perché non avevo soldi per cibo. Non ho mai avuto freddo perché non avevo casa ed ero fuori nel freddo. Ho avuto freddo lavorando fuori nel freddo, ma poi potevo tornare dentro. Avevo fame ma c'era il frigo pieno. Non ho subito di essere lapidato, frustato, più di una volta, bastonato. Paolo sì. Paolo conosceva avere ampio e sapeva stare malissimo e lui aveva imparato ad essere contento in qualunque circostanza in cui si trovava. Questo non è naturale. Questo non è automatico. Questo non è che se tu sei salvato sarai contento in ogni cosa. No! Come credenti tu devi imparare questo. Seremo scontenti se non impariamo questo. E come possiamo imparare questo? Come possiamo imparare ad essere contenti e non scontenti? Cosa vuol dire? Come si impara questo? Dipende da dove cerchi la tua contentezza. Dipende da se tu sei umile e dici, Signor, io non merito alcun bene. Quindi, il male che mi arriva non è il male che merito. Io merito l'ago di fuoco, tormento eterno, e quello non avrò mai perché Gesù ha preso quello per me. e le prove qui stai gestendo tu e non sbagli e mi ami e sei onnipotente in controllo e tu sei saggio. Signore, dammi più di Cristo. Serviti di questa prova per darmi più di Cristo. Glorificati tramite questa prova mia. Questo è imparare. Questo è imparare ad essere contento in ogni circostanza. Qual è il problema? Cuore duro. Qual è il problema? Orgoglio. Non è giusto! Basta con questa prova! Sono stufo! È un cuore pieno di orgoglio che crede di meritare meglio di quello che ha ma noi non meritiamo meglio di quello che abbiamo. Meritiamo peggio. Infinitamente, eternamente peggio. È il nostro orgoglio che ci fa non essere contenti. Io voglio essere contento. Io voglio essere contento. Essere contento è una bella cosa. Essere contento è il mio cuore sta tranquillo, sono contento. Io voglio essere contento. Io voglio essere contento anche quando le cose brutte succedono. E ci sono cose brutte nella mia vita e anche nella tua. e la risposta è semplice è umiliarmi, umiliarci e cercare la nostra contentezza in Gesù Cristo. Io posso essere contento e tu puoi essere contento in qualunque stato in cui ti trovi se tu ti fortifichi in Gesù Cristo. Leggo di nuovo il versetto 13 che è una verità che se avvia ciascuno di noi era vero per Paolo e possiamo farlo vero per noi. Leggo. Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Io posso. Io posso essere contento in ogni circostanza. Qualunque cosa che mi succede io posso andare avanti. Guardiamo intorno a noi. Le persone più forti non possono fare quello da soli. La nostra forza non è sufficiente ma lui non dice nella sua forza dice in Cristo Gesù che mi fortifica. Dobbiamo umiliarci per essere fortificati in Gesù Cristo. Dobbiamo guardare a Cristo. Non pisare lo sguardo sulle circostanze che passi e ripassi quanto sono difficili è brutto. Quando ti alzi e quando passi la giornata cosa dici? Oh no oggi devo fare questo. Come inizia la tua giornata? Oh c'è quello. Oh quello ancora non ho fatto quello. Come faccio quello? Eh inizi pensando ai problemi o inizi pensando a Gesù Cristo Signore grazie che tu sei con me tu sei con me oggi grazie dove inizi a pensare ricordate il comandamento meraviglioso in Efessini 6 10 vi leggo del resto fratelli miei fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Possiamo e dobbiamo fortificarci nel Signore e nella forza della sua potenza. E quando viviamo così allora anche noi possiamo essere contenti in qualunque stato in cui troviamo allora possiamo anche noi dire io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. La nostra forza non è sufficiente solo quello di Cristo fortifichiamoci nel Signore e non posso fortificarmi in Cristo se non cammino umilmente confessandomi ai peccati e confidando in Lui. Signore questo è quello che tu hai stabilito mi fido di te in questa prova questo fa parte di fortificarmi io non posso fortificarmi in Cristo se stai lamentandomi contro quello che Cristo sta facendo. Sto alzando il pugno contro Lui perché perché hai permesso questo altro che riposarmi in Lui. No fortificatevi nel Signore nella forza della sua potenza umilmente e dico Signore tu sei in controllo accetto tutto quello che mi stai dando perché tu hai ogni potestà in cielo e in terra allora mi fido di te mi riposo in te fortifichami tu allora tu sarai fortificato in Lui e tu puoi ogni cosa e tu avrai contentezza in qualunque stato in cui ti trovi allora dopo che Paolo chiarisce guardate non è che voleva quel dono per me perché io sono contento in ogni situazione e anche voi potete essere contenti in ogni condizione però ho gioia che mi avete mandato questo dono non per me ma per quello che fa in voi io ho gioia per voi per il frutto spirituale che quel dono rappresenta in voi questo è quello che spiega in 14 a 18 leggiamo quei versetti ancora tuttavia qui e perché nonostante che io stavo già bene anche nel bisogno e poi dice tuttavia avete fatto bene a prendere parte alla mia afflizione ora sapete anche voi filippesi che all'inizio della predicazione dell'Evangelo quando partì dalla Macedonia nessuna chiesa mi fece parte in alcuna cosa per quanto al dare e al ricevere se non voi soli perché anche a Tessalonica mi avete mandato non solo una volta ma due di che provvedere al mio bisogno non già che io ricerchi il dono ricerco invece il frutto che abbondi al vostro favore ora ho ricevuto tutto e abbondo sono di colmo avendo ricevuto da Paffrodito ciò che mi è stato mandato da voi che è un profumo di odore suave un sacrificio accettevole piacevole a Dio qualtuttavia come ho detto e nonostante che io stavo già bene era contento anche senza tuttavia avete fatto bene avete fatto bene per quello che vuol dire per la vostra crescita è importante lui sta dicendo avete fatto bene sostenermi avete fatto bene perché è il piano di Dio di notare chi è nel bisogno e di aiutarli il secondo comandamento è il più grande amare Dio con tutto il cuore forza anima e mente secondo amare il tuo prossimo come te stesso chi dice amare Dio non ama il suo fratello è bugiardo e quindi se tu vedi il tuo fratello non bisogna non bisogna dire ah che Dio ti benedica bisogna aiutarlo e dice avete fatto bene avete sentito il mio bisogno quindi era buono per voi era giusto che avete fatto questo grande impegno prendere parte delle afflizioni degli altri che può essere economico come può essere avere bisogno di tempo può essere aiutare quella persona che sta nella solitudine può essere la persona che è abbattuta ha bisogno di incoraggiamento aiutare le persone nella loro afflizione è un frutto essenziale della salvezza che dà gloria a Dio qual è la vera religione agli occhi di Dio si si tenersi pure al mondo e soccorrere le vedove e gli orfani aiutare chi sta nell'afflizione allora per incoraggiare loro per incoraggiare loro per l'impegno che avevano fatto Paolo spiega che all'inizio della sua missione di proclamare l'Evangelo nessun'altra chiesa aveva fatto parte per aiutarlo se non solo i filippesi che avevano mandato lui mentre era a Tessalonica ben due volte un'offerta e questo sarebbe almeno la terza volta perché a Tessalonica due volte adesso sta a Roma è buono quando incoraggiamo gli altri quando si mettono l'affare per i signori notate quello che sta facendo Paolo qui Paolo sta dicendo loro si mettono l'affare voglio incoraggiare loro in questo voglio incoraggiare loro c'è una differenza fra inalzare qualcuno e incoraggiare qualcuno è buono quando incoraggiamo coloro che si impegnano per il signore è importantissimo vivere la vita cristiana e combattere la carne combattere il mondo andare contro corrente è stancante è difficile è una parola di incoraggiamento vale tanto pensate io immagino spero che tutti qui in qualche momento che ognuno abbia ricevuto qualche parola di incoraggiamento cosa ti fa se uno ti dà una parola sincera di incoraggiamento per qualcosa che avevi fatto per il signore incoraggia moltissimo grazie tanto è stato un grande aiuto Dio mi è veramente provveduto tramite te Dio mi ha sostenuto tramite te grazie tanto e sentire che Dio sia servito di me e nella vita di qualcuno incoraggia moltissimo mi stimola a non stancarmi a andare avanti Paolo faceva questo spesso lo fai tu lo fai tu lo fai tu in casa ogni figlio dovrebbe ringraziare i genitori di cuore ogni giorno è importante trasmettere questo perché un figlio che non sa ringraziare di cuore avrà una brutta vita avrà una vita maledetta non benedetta la Bibbia dice figli ubbidite ai vostri genitori e non solo ubbidire ma onoratele affinché affinché cosa affinché siete benedetti e felici giorni lunghi felici benedetti se non hai quel cuore e ringraziare fa parte di onorare avrà una vita maledetta non benedetta è una cosa importante i mariti con mogli dovrebbero abbondare nel ringraziamento incoraggiamento vero sincero mogli verso i mariti in chiesa fra credenti quindi vi lascio questa parola poi andiamo avanti tu stai incoraggiando l'impegno di coloro che si mettono ad affari nel versetto 17 Paolo ripete che non cercava il loro dono piuttosto ricercava frutto della loro vita che abbondava al loro favore leggo di nuovo il versetto 17 non già che io ricerchi il dono ricerco invece il frutto che abbondi al vostro favore Paolo cercava sempre la gloria di Dio e cercava sempre il vero bene degli altri in questo caso il vero bene di loro sarebbe aiutare loro a portare frutto il più grande bene che tu puoi fare per un altro che è salvato è di incoraggiare aiutare stimolare spronare quella persona a portare frutto non c'è beneficio più grande non c'è beneficio più grande perché una volta salvati la cosa più grande che possiamo fare è avere frutto da presentare a Gesù Cristo e quindi se tu puoi facilitare questo a volte vuol dire incoraggiare ad aiutare qualcuno a cambiare il lavoro perché magari il lavoro che hanno succhia tutto il tempo e non hanno tempo di vivere per Dio un altro può essere aiutare persone a valutare le scelte un altro avere coraggio perché ha timore un altro a vedere più di Cristo cioè se tu puoi aiutare qualcun altro ad avere una vita che porta più a Cristo questo è amare il tuo fratello la tua sorella perché questo porterà più beneficio alla loro vita che qualunque altra cosa per tutta l'eternità Paolo cercava frutto negli altri e poi il versetto 18 mi colpisce e mi incoraggia moltissimo lui spiega nel versetto 18 che il loro dono di soldi era una cosa materiale in realtà era un sacrificio spirituale gradito a Dio leggo di nuovo 18 che descrive cos'era la loro offerta economica ora ho ricevuto tutto ed abbondo sono di colmo avendo ricevuto da Epafrodito ciò che mi è stato mandato da voi che è un profumo di odor suave un sacrificio accettevole piacevole a Dio si presumo che era un dono molto grande Paolo era in prigione ma in quell'epoca se tu avevi soldi potevi vivere molto meglio avere abbastanza da riscaldarti avere ampio da mangiare eccetera ma non solo Paolo aveva collaboratori che potevano aiutarlo che potevano assisterlo potevano venire mentre lui dettava lettere che potevano poi portare alle chiese potevano mandare messaggi avanti e dietro ma loro per poter aiutare Paolo dovevano avere cibo dovevano avere una stanza in qualche appartamento poi veniva da Paolo di giorno cioè dovevano avere soldi o dovevano lavorare che vuol dire non avere tempo di aiutare Paolo oppure dovevano avere qualche dono e quindi questo dono provvedeva sia per Paolo che sicuramente per i suoi collaboratori in modo che poteva continuare a sforgere il ministero anche dalla prigione e quindi questo dono che permetteva all'opera di Dio di andare avanti non era per dare a Paolo una bella vacanza non era che affinché potesse avere una macchina un carro più bello o il cavallo più bello non era per avere cose di lusso perché Dio le benedizioni di Dio non sono cose di lusso non sono belle macchine e bei viaggi e mangiare in bei ristoranti quello è un falso evangelo quello è un falso evangelo le benedizioni di Dio la vera prosperità e di avere una vita ricca di sacrifici che portano frutto a Dio però dobbiamo mangiare non di lusso ma dobbiamo mangiare abbiamo bisogno di vestiti abbiamo bisogno di un posto da dormire nella società moderna abbiamo bisogno di spostarci o con la macchina o con i mezzi ma tutto costa qualcosa e quindi abbiamo bisogno di un minimo di soldi e Paolo a Corinto non aveva quel minimo di soldi e si è messo a fabbricare i tendi che era il suo mestiere ma appena sono arrivati i suoi collaboratori con un dono ha smesso di fabbricare i tendi e è ritornato a predicare il tempo pieno quindi Paolo era disposto a lavorare però quando non doveva lavorare poteva predicare di più perché era chiamato a quello quindi il sostegno di questi credenti permetteva all'opera di Dio di andare avanti e perciò Paolo dichiara questo loro sostegno un profumo di odore suave a Dio era un sacrificio accettevole a Dio piacevole a Dio questo è grande tu con cose materiali con tempo con le capacità che hai con la forza che hai la mente che hai con i soldi che hai tu puoi o Dio li fa veramente trasformare cose terrene in cose eterne tu puoi usare soldi tempo forza che lascerai tutto quando morerai ma tu puoi usarli per cose che vanno avanti ricordate in Luca la parabola del fattore infedele alla fine di quello Gesù dice usate i beni del mondo per fare amicizie eterne in modo che vi accoglieranno cioè usate i soldi per promuovere l'Evangelo in modo che più persone saranno salvati e quelle che morono prima di te quando tu arrivi in cielo ti accoglieranno tu sei stato usato per la mia salvezza è incredibile che noi possiamo vivere in modo di presentare a Dio offerte dalla nostra povertà che tutto viene da Lui offerte che sono accettevole a Dio sono un odore suave a Dio sono piacevole a Dio io a Dio posso offrire qualcosa piacevole un bambino piccolo che cresce non viziato che cresce bene e tristemente non è tanto comune ma ama piacere ai genitori ama fare cose per i genitori mamma mamma papà ho fatto un disegno per te e ho fatto con tanta cura si sa amare ho fatto questo per te e quando possiamo fare per Dio e Dio è contento Dio è contento con me con te parliamo di essere soddisfatti parliamo di un cuore che trabocca di gioia il creatore di tutto il sovrano soprattutto è contento di me di quello che io gli ho offerto si quando offriamo a Dio del nostro tempo delle nostre forze e facciamo per la sua gloria e non per gloria per noi e lui è contento è un odore suave a lui quanto spesso la nostra vita è vuota perché cerchiamo la contentezza vivendo per noi stessi vivendo per la nostra famiglia cercando rilasciare una realità economica ai nostri figli vivendo per le nostre cose e dando a Dio le briciole che avanzano e non siamo contenti e non abbiamo la gioia di sentire Dio dire anche in questa vita ben fatto mio servo beato la persona che vive per l'eternità pericolo rischio sono stato avvertito io e vi avverto io ma se tu vivi così per il Signore potresti tu mancherai oh scusami anche tu hai bisogno hai una famiglia devi pensare a te è un ragionamento che fila è un ragionamento che non conosce Dio non conosce Dio tutto dobbiamo imparare uno che possiamo essere contenti in qualunque condizione che vuol dire se Dio mi permette perché ho dato di tutto a Lui e il resto con ben poco io posso essere contento con ben poco ma c'è anche una cosa da ricordare quando ci achiamo per primo il regno di Dio Dio provvederà tutti i nostri bisogni quando cerchiamo per primo rendere Dio Dio provvederà tutti i nostri bisogni sarà Dio a supplire per ogni nostro vero bisogno non astento ma secondo le sue ricchezze in gloria in Cristo Gesù seguite mentre leggo il versetto 19 meraviglioso ma il mio Dio supplirà ad ogni vostro bisogno secondo le sue ricchezze in gloria in Cristo Gesù quando la nostra passione è di vivere per la gloria di Dio e vogliamo essere spesi per Lui e non teniamo conto del costo sarà Dio a supplire ad ogni nostro bisogno secondo le sue ricchezze in gloria in Cristo Gesù una domanda assurda perché non c'è risposta quanto grande è la gloria di Dio quanto sono immense le sue ricchezze cioè non c'è risposta è infinito è senza limite le sue ricchezze in gloria sono infinite e quindi quando Lui provvederà supererà ad ogni nostro bisogno secondo le sue ricchezze in gloria in Gesù Cristo non mancherà mai non mancherà mai quando il nostro desiderio è quello della gloria di Dio ci penserà Dio dice ogni bisogno non dice ogni piacere della carne non dice vi darò una bella macchina vi provvederà ai vostri bisogni ma se il nostro desiderio è la gloria di Dio il nostro cuore traboccherà di gioia per il frutto che vedremo ricordate che per salvarci Dio non ha risparmiato il suo genito figlio quindi non ci donerà anche tutte le altre cose con Lui Romani 8 32 conosciamo certamente certamente è colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio ma lo ha dato per tutti noi come non ci donerà anche tutte le cose con Lui o che possiamo camminare per fede Dio provvederà provvederà Paolo conclude questo pensiero come spesso fa con una preghiera quello che era il suo desiderio più profondo della sua vita seguite mentre leggo Filippesi 4 20 ora al Dio e Padre nostro sia la gloria nei secoli dei secoli Amen questo è il cuore di Paolo è il tuo ah sì io voglio il cuore di Dio no 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 non non con parole così è il tuo cuore che si vede da come vivi che vedi dalle scelte che vedi da quello che stai chiedendo Dio il Padre nostro sta pregando questo oh Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà questo è quello che Paolo sta pregando qui questo è il tuo desiderio questo è la tua passione questo è il cuore di uno che ha il cuore che trabocca di vera gioia la risposta a questa domanda se questo è o non è il nostro cuore rivela la vera condizione del nostro cuore io prego che possiamo vedere i nostri idoli quello che desideriamo che scusate non è sempre così grande spesso l'idolo più grande è una vita con meno problemi non dammi quello non dammi quello signore non voglio quello è troppo per noi spesso questo è il nostro idolo non è grande cose è proprio che non ci dia quella prova quella prova quello può essere un idolo quando io voglio la gloria di Dio quello se lui vuole mandarmi quella prova ben venga però serviti di quello signore per portarti gloria in me allora Paolo ha finito questa pistola e ha solo da scrivere ultime parole che voglio leggere volevo scrivere a questi credenti che lui amava in cui avevano molto gioia leggo 21 salutate tutti i santi in Cristo Gesù i fratelli che sono con me vi salutano tutti i santi vi salutano e soprattutto quelli della casa di Cesare la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi Amen Paolo esorta loro a salutare i santi ricordati che i santi sono quelli che sono in Cristo perché sono coperti con la santità e la giustizia di Cristo poi dice e anche i santi qui vi salutano e una cosa interessante abbiamo visto all'inizio capitolo 1 di Filippesi soprattutto quelli della casa di Cesare Paolo era in prigione nella prigione di Cesare perché aveva fatto appello a Cesare e perciò lui evangelizzava i soldati e non so se c'erano anche i serbi che portavano cibo eccetera eccetera e lui evangelizzava tutti e Dio aveva salvato vari al punto che quelli della casa di Cesare i salvati mandavano i loro saluti a questa chiesa a Filippi non avevano mai conosciuto quelli dei filippesi quello della casa di Cesare però erano legati in Cristo e io prego che noi possiamo avere quel tipo di cuore di avere gioia di sentire l'opera di Dio altrove e poi lui chiude ogni epistola con questa preghiera 23 la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi Amen noi viviamo per grazia la grazia del Signore nostro Gesù Cristo perciò è importante pregare questo tu stai pregando oh Signore abbondi la tua grazia su di lui su di lei su di loro cioè è una preghiera che fai gli uni per gli altri se non per persone altrove fatte per le persone in chiesa pregate per le altre famiglie le altre persone quando la grazia del Signore nostro Gesù Cristo è con noi sia con voi dice Paolo avremo tutta la cura che ci serve e allora possiamo vivere per portare frutto per l'eternità allora la nostra vita avrà senso avrà dolore con una certa tristezza chiudiamo con questo la pistola ai filippesi abbiamo iniziato un anno fa quasi esattamente chiudiamo adesso ma io prego che rileggendo rileggendo questa pistola che le verità che abbiamo visto in questo cammino insieme possono incoraggiarvi possono stimolarvi possono farvi avere più gioia nel Signore Gesù Cristo possono aiutarvi a ricordare che Cristo che pur essendo in forma di Dio si è spogliato si è nichilì per poter andare alla croce per noi ma poi Dio lo ha innalzato al di sopra di ogni altro nome prego che possiamo vivere la vita cristiana con quell'umiltà pensando non solo alle nostre cose ma alle cose di Cristo prego che possiamo ricordare che è molto meglio partire dal corpo per essere con Cristo ma finché siamo qui che possiamo essere luci astri luminosi in una generazione perversa che possiamo completare la nostra salvezza con timore tremore ricordando ricordando che è Dio che opera in noi e volere e operare o che possiamo vivere le verità che abbiamo visto qui e che possiamo gioire del continuo nel Signore preghiamo o Signore io ti ringrazio ti ringrazio per il privilegio di aver potuto dedicare l'ultimo anno non tutte le domeniche ma la maggioranza a studiare molto più a fondo questa pistola meravigliosa piena di verità che ci servono Padre la tua parola ci serve e questa pistola è ricchissima ti ringrazio per le verità che sono in essa ti ringrazio che sono verità sono realtà sulla quale possiamo fondare la nostra vita e non saremo delusi grazie oh Padre prego ti prego ti chiedo di sigillare queste verità ai nostri cuori e quando deviamo a destra o a sinistra che possiamo riconoscere confessare e riprendere la via stretta camminando con te in Cristo Gesù vivendo per la tua gloria vivendo per la tua gloria gioiendo non nelle circostanze che spesso non c'è da gioire nelle circostanze ma gioiendo del continuo nel nostro Signore Gesù Cristo ti prego che possiamo vivere in base a quello che ci hai mostrato qua la grazia di Gesù Cristo sia con noi a te la gloria nel nome di Gesù Cristo Amen Amén Grazie a tutti.